strategie per la qualità della vita e prevenzione delle riprese di malattia in ambito ematologico ne abbiamo parlato con il professor marco vignetti incontrato a roma nell'ambito del convegno nazionale ail su impatto ambientale e rischio sanitario professore qual è l'impatto di un ambiente inquinato sulle malattie ematologiche beh oggi noi sappiamo sulle malattie ematologiche neoplastiche che molte derivano da degli errori genetici che compaiono nelle cellule del sangue nell'individuo e questi errori genetici probabilmente hanno maggiori probabilità di comparire se ci sono inquinanti ambientali di qualsiasi tipo essi siano che li provocano che li favoriscono che li scatenano e questo è probabilmente un effetto che ancora va studiato va approfondito ma che nessuno probabilmente può più negare quali sono le migliori strategie per prevenire una ripresa di malattia su quello siamo molto più avanti oggi come oggi abbiamo delle metodologie di diagnosi a livello molecolare che consentono di intercettare un'eventuale ripresa di malattia quando magari ci sono ancora soltanto una su 100.000 una su 10.000 cellule malate nel sangue nell'organismo e quindi siamo in condizioni di intervenire più precocemente soprattutto quando abbiamo a disposizione quei farmaci cosiddetti mirati sulla malattia i farmaci target oggi ce ne sono diversi o i farmaci quali gli anticorpi monoclonali che vanno ad attaccare direttamente la cellula malata in questo caso intercettare precocemente una ripresa di malattia significa aumentare le probabilità di non avere una recidiva vera e propria